Buonasera a tutti da Andrea Raggini. La situazione meteorologica vede il ritorno dell'alta pressione su buona parte del nord Italia, quindi anche l'Emilia Romagna è e sarà interessata da questa potente alta pressione che porterà belle giornate di sole ma soprattutto pienamente estive. Anche quella di domani, venerdì 21 settembre, inizierà con il sole e si concluderà nello stesso modo, infatti per tutto l'arco della giornata i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il nostro territorio regionale, ma quello che farà la differenza sarà l'aspetto termico, infatti sarà piena estate, valori minimi compresi tra 18 e 21 gradi, mentre i valori massimi saranno generalmente intorno ai 27 e 29 gradi sul mare, ma sulle pianure interne potremmo raggiungere valori fino a 30, 31 e localmente 32 gradi, quindi valori tipicamente del mese di luglio, quindi siamo lontani dalle medie stagionali. La giornata di sabato sarà anch'essa baciata dal sole e da temperature pienamente estive. La giornata di domenica vedrà maggiore nuvolosità e un primo calo delle temperature prima di un importante calo termico che avverrà probabilmente martedì prossimo. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini.